gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia matteo salvini dice che del nuovo dpcm dice mi sono fatto un'idea pessima un conto è vietare le folle un altro è dividere gli italiani chiuderli in casa in un giorno di festa preghiera e speranza dice matteo salvini a margine di una visite al centro ampi onlus scuola cani guida per ciechi a campagnano di roma e dice aggiunge questo fare muri di paese in paese anche il giorno di natale è una follia è una battaglia ideologica per chiudere impaurire e separare gli italiani dice il leader della lega che soffermandosi sulla riforma del mess la definisce peggiorativa quindi aggiunge che poi il centro destra anche su questo è compatto dice speriamo anche nella maggioranza qualcuno sia disposto ad anteporre l'interesse dell'italia alle proprie poltrone noi come lega abbiamo le idee chiare il centro destra con meloni e berlusconi idem aspettiamo gli altri conclude salvini beh certo quella cosa che il 25 26 non puoi uscire dal dal comune di residenza immaginatevi i comuni quelli piccoli dove non c'è niente e non puoi andare a a un chilometro dove c'è l'altro comune dove tu di solito vai è un po deprimente ma secondo voi impedire di passare da un comune all'altro realmente impedisce la circolazione della malattia un po come chiudere i ristoranti a natale capodanno impedisce la circolazione della malattia secondo me sono tutte imposizioni perché il governo ha capito che non può controllare gli assembramenti non ha i mezzi fisici non ha il numero di poliziotti per poter controllare ogni movida ogni strada ogni bar e ogni città e quindi a questo punto chiude tutto in modo che controllare sia più facile perché chiudendo non c'è in giro nessuno e tu chiunque vedi chi si avvicina tra un'altra persona lo riesce a individuare mentre se è tutto aperto come dice il vice della della la morgese al viminale è prima non c'era quando c'era lockdown non c'era in giro nessuno quindi individuare qualcuno fuori era facile adesso che praticamente sono tutti fuori anche nelle zone rosse perché si può fare la passeggiata quindi cosa fai chiedi i documenti a 60 milioni di italiani come dice De Luca in campagna la zona rossa è una farsa non c'è nessun controllo quindi già io mi stupisco come mai siano scesi i dati della trasmissione del contagio nonostante ci siano queste finte chiusure perché poi le reali chiusure quali sono e i bar e i ristoranti che non sono che non sono aperti e i negozi nelle zone rosse che sono costretti a chiudere quella è l'unica cosa reale per il resto si può fare sempre le stesse cose che si facevano che si facevano prima mentre sgarbi interviene sui vaccini che vengono distribuiti in inghilterra un mese prima e dice il governo è un disastro sui vaccini il governo è un disastro agli inglesi con un mese di anticipo scrive su twitter vittorio sgarbi intervenendo sulle polemiche legate all'arrivo dei vaccini anti covid nel nostro paese e già disponibili nei prossimi giorni in inghilterra il deputato cita nel tweet il suo intervento alla camera in cui affronta il tema però su questo si è capito che in inghilterra c'è il vaccino perché lo stanno distribuendo prima del tempo prima delle autorizzazioni prima delle verifiche definitive quindi si stanno assumendo non è che sono riusciti ad averlo prima perché sono stati i migliori a fare il contratto a fare l'ordine a convincere l'azienda mandarlo prima loro in realtà il fatto è che lo stanno utilizzando prima di avere tutte le garanzie che il vaccino sia funzionante probabilmente hanno la fiducia tanto sappiamo che poi lo approveranno cominciamo ad utilizzarlo molti accusano l'inghilterra di essere un po sprovveduta o perlomeno di essere sfrontata sotto questo aspetto questa corsa a vaccinare senza la sicurezza delle 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 della sanità è abbastanza rischioso quindi dietro c'è questo c'è poca poca oculatezza questa è la realtà intanto luigi di maio dice che il reddito di cittadinanza non si cancella visto che nei giorni scorsi con le sue interviste aveva fatto capire che il reddito di cittadinanza non funzionava e lui così adesso vuole ribadire che ha ridato il reddito dignità a tante persone dimenticate dallo stato nessuno si mette in testa di cancellarlo e così il ministro degli esteri luigi di maio mette le cose in chiaro in un post su facebook nella quale definisce vergognosa la campagna di diffamazione che da anni viene fatta contro il movimento 5 stelle e contro tutte le leggi che portano la nostra firma ma in realtà non è una campagna di diffamazione quella sul sul reddito di cittadinanza è una fotografia di un provvedimento fallimentare che è solo assistenzialismo non è questa diffamazione né contro di lui né contro il movimento 5 stelle chiunque avesse proposto questa schifezza che poi dobbiamo definirla una schifezza sarebbe stato criticato lui stesso ha criticato il reddito proprio qualche giorno qualche giorno fa perché ovviamente non sta funzionando e poi dice che questa pandemia ha certificato che senza il reddito di cittadinanza ci sarebbero stati milioni di nuovi poveri e mentre tanta gente soffre a causa di questa crisi economica questi vogliono far passare tutti i percettori del reddito come dei terroristi o dei mafiosi dice di maio non ho parole per esprimere lo sdegno il reddito ha ridato voce a moltissime persone dimenticate dallo stato ha restituito loro dignità io ne vado fiero beh insomma poi aggiunge che chi scrive queste cose chi le pensa se l'è sempre passata bene adesso poi magari ne lo raccontiamo in un altro in un altro video io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook instagram e nell'altro canale di youtube tele italia seconda rete grazie e buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti ciao ciao ciao